ciao a tutti ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video allora aspettate che cerco un attimo di posizionarvi un pochino meglio allora eccoci qua oggi siamo davanti a una bellissima pasta sfoglia e vi starete domandando che ricetta facciamo allora oggi voglio provare a fare le chiacchiere con la pasta di sfoglia sicuramente direte ma chissà che strana ricetta particolare allora comunque tutto quello che vi occorre sono una rondellina zucchero a velo dopo per ovviamente decorare sopra e olio di semi o quello per friggere e passa sfoglia non vi prometto nulla ma se avrò tempo sicuramente farò proprio insomma la ricetta per le chiacchiere ma purtroppo quest'anno il tempo mi manca tantissimo e quindi devo cercare di riordinare le idee e fare qualcosina anche più facile alla portata di tutti ecco sicuramente non saranno sostitutive alle chiacchiere normali però insomma può essere una un'idea carina da servire all'ultimo momento detto questo vi mando un bacione mi raccomando lasciate sempre un mi piace condividete iscrivetevi al canale ciao a tutti 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 ciao a tutti